Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in Città Vecchia, precisamente in via Garibaldi, proprio a fianco della chiesa storica di San Giuseppe, via Garibaldi, la parallela via Di Mezzo e vedete alle mie spalle uno scempio, l'ennesimo palazzo della Città Vecchia in stato di assoluta fatiscienza, puntellato, transennato, metà di sporcizia, anzi luogo che raccoglie sporcizia purtroppo, uno stato di degrado assoluto. Da questo lato, alla mia destra, il degrado e lo schifo assoluto, alla mia sinistra la meraviglia del lungomare, un mare fantastico, una tavola d'olio, un mare che sembra un olio stamattina. Scusatemi, ma è possibile che la città vecchia debba ridursi, debba continuare a vivere o a morire, a stare in agonia in uno stato sì fatto? È normale? Io, credetemi, mi incazzo, passatemi l'espressione, quando sento progetti, recupero, concorso di idee, ma in tanti decenni, non mi riferisco soltanto a questa amministrazione che si è insediata da sei mesi, ma parlo di situazioni pregresse, di decenni e decenni di abbandono, ma nessuna amministrazione mai è riuscita a fare qualcosa, a creare un sistema virtuoso, chiamiamolo così, per dare un minimo di decoro, un ripristino a quello che è il nostro patrimonio, il patrimonio della città vecchia, perché inaudito che un palazzo del genere debba stare da decenni, i resti di un palazzo in questo stato, se io non vi avessi detto che siamo a Taranto, avrei potuto dire, siamo in una zona del Medio Oriente colpita dalle bombe, nessuno si sarebbe accorto ovviamente del fatto che eravamo a Taranto, avrebbero pensato, chissà, starà in qualche zona di guerra, guardate, le immagini parlano da solo, tutto transennato, ovviamente, l'erbaccia che cresce, la sporcizia, i cumuli di sporcizia che si moltiplicano, questo è Taranto, allora non venitemi a raccontare le favole, il concorso di idee, le tavole rotonde, gli ordini professionali che vengono chiamati, andiamo al concreto, finora avete fatto solo fumo, chiacchiere, Taranto vecchia, scusatemi l'espressione, è ridotta, una merda, questa è la realtà e scusate la volgarità e l'enfasi con cui mi sto esprimendo, ma non è possibile una cosa del genere, in altre città, se non andiamo chissà in quali parti d'Italia, andiamo a Barivecchia, andiamo a Lecce e vedete il centro storico che è un gingillo, è un fiore, è più nuovo della parte nuova di Bario di Lecce e mi state venendo a raccontare le chiacchiere e pensate ai progetti, guardate questo schifo, questo è uno schifo, questa purtroppo è Taranto, che piaccia o no.